Ciao ragazzi, rubrica il libro che non hai, Mother of Resty, in questo caso è The Complete Gunson Magic Teaching Series. Luis Gunson uscì con dei fascicoletti, ognuno monografia, dedicati a un effetto in particolare, Rising Card, Gypsy Thread e via dicendo. Questo libro raccoglie tutti questi fascicoletti con magia professionale, con una marea di attrezzi e di effetti.